Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Stefano Caffiero, che mi chiede di parlare del film del 1988, scritto e diretto da Paul Marzuski, con un grande Richard Dreyfus, Raul Giulia e Sonia Braga, tittatore del Parador in arte Jack. Un film che uscì al cinema con un buon budget di 20 milioni e che fece un flop clamoroso nonostante qualche premio vinto in quella. La storia è quella di Jack, appunto, attore americano che cerca sempre di scrittura mediocre, che non riesce a fare un cazzo e che è appunto in questo Parador, diciamo in mezzo a Carabie, un'isola, un paese immaginario, dove praticamente viene assunto, prima non molto volentieri, ma deciderà di accettare, insomma di fare la parte del dittatore che in realtà è morto. Viene assunto da questo Straussman, da questo capo del ministero appunto di questo nuovo paese, che in realtà è un ex nazista e che vuole appunto governare lui come ha sempre fatto, nascondendo a Jack il fatto che lui sia un grosso fascistone e soprattutto mettendo di fronte al fatto che la popolazione potrebbe fare una rivoluzione e tutto il resto. La Jack decide di accettare proprio perché è il ruolo della sua vita, secondo lui vuole assolutamente recitare questa parte ed è molto bravo a farlo perché comunque gli assomiglia fisicamente alla sua recitazione. È molto inconvincente, così convincente da far innamorare di sé l'ex amante del dittatore, ovvero Sonia Braga, che a quel punto però gli mostra quanto povertà, quanto fa schifo il paese. E allora a quel punto il nostro decide in realtà di fare politica sul serio e di cercare di sistemare tutto quello che in realtà non andava sistemato. E di lì poi tutta la rivolza del nostro Giulia cattivissimo e per un finale abbastanza buonista. Insomma in un certo senso un film che vorrebbe fare di tutto, vorrebbe mescolare la commedia sentimentale all'avventura, alla satira sociopolitica, addirittura a qualche numero diciamo così metacinematografico. Per un film che però purtroppo non prende la strada che deve prendere, nel senso che è indeciso veramente dove voler andare. E se l'idea del soggetto di partenza secondo me era molto buona, l'idea poteva starci tutta, nel senso che poteva essere molto interessante, però è un film veramente che si scontra contro una sceneggiatura che non sa veramente che pesci pigliare a un certo punto. La satira sociopolitica non è abbastanza forte per convincere fino in fondo gli attori, nonostante un grandissimo Richard Dreyfus che riesce veramente ad essere fantastico, riesce a far ridere, riesce ad essere perfetto, a un certo punto però non viene aiutato da una sceneggiatura che rende il tutto abbastanza pietoso il retorico in un certo senso. Sonia Braga non è male però sembra un po' anche lei la caricatura di se stesso. Raul Giulia è sempre stato bravo e continuerà a essere bravo anche in questo film per un film che ha dalla sua forse buona musica di Maurice Jarret, una messa in scena quella di Mazurki che sicuramente sa che cosa mettere in scena in certo senso. Cresciuto come attore alla corte dei primissimi film del grandissimo Kubrick, ha poi fatto un paio di film niente male su Beverly Hills ma poi si è fermato lì in realtà la sua carriera poi ha cominciato a prendere e a zoppicare di brutto e questo film qui è l'elap quasi completamente stroncata perché è un film comunque su quale credevano molto e che invece poi non ha incassato un emerito cazzo, ma se ne capisce perché non c'è un vero pubblico di riferimento, film rimbalza veramente tramite scenografie naturalmente opulente, un montaggio anche all'inizio gradevole sui tempi comici che però a ripeto si perde, si perde purtroppo attraverso delle dinamiche che poi a un certo punto diventano più che altro completamente grottesche e non funzionano più perché fino a quel punto si era parlato di un realismo assoluto, quindi è un film che sbatte assolutamente nel suo volere essere, come ho detto, comico, romantico, drammatico, sociale e non riesce a beccarne uno di questi perché poi il tutto non si amalgama e una scena dietro l'altra incomincia a essere fastidiosa, nel vero senso della parola, è uno di quei film che vedi quando uscì in VHS e poi l'ho rivisto due o tre volte in televisione e tutte le volte non mi ha convinto, sbatte da una parte all'altra senza mai indirizzarla alla corsia. Cameo del grande Sammy Davis Jr. dove farà appunto lo spettacolo dove farà finta di morire, lui starà lì più di un anno ma in realtà poi il piano del nostro Simons è quello di diventare lui il vero dittatore, insomma per un film che ripeto purtroppo non sa dove andare a sbattere perché qualcosa di interessante aveva, la critica appunto all'America che comanda questi stati del sud attraverso questi dittatori e tutto il resto, poteva funzionare in un certo senso ma ripeto però è all'acqua di rose e tutto il resto non è amalgamato, non è qualcosa che non si forma, riesce a perdere pezzi ogni secondo che passa e purtroppo questo veramente diventa deleterio per una pellicola che voleva essere ma che non è riuscita a essere proprio niente, peccato perché ripeto le potenzialità c'erano, il soggetto c'era, Dreyfus era in grandissima parte, ma alla fin fine però se non si sa che strada prendere alla fine purtroppo ci si perde, c'è poco altro da aggiungere, nonostante la tecnica, nonostante gli attori c'è proprio qualcosa che manca, ovvero la scrittura e la voglia di raccontare qualcosa che non sia assolutamente una cosa che diventa poi una farsa senza forse manco volerlo. Grazie a tutti.